Ciao a tutti, essere dipendenti affettivamente fa ingrassare. Se diventiamo dipendenti, dipendenti cosa vuol dire? Vuol dire che le nostre emozioni vengono regolate e gestite da un'altra persona. La nostra sfera logico-razionale inizia a diventare, diciamo così, compressa. Perché la parte emotiva inizia a fare pressione. A fare pressione perché ovviamente entra in conflitto. Si esaspera il conflitto tra sfera logica e sfera emotiva. Se si è dipendenti da un altro, se la sfera emotiva è dipendente da un'altra persona, la sfera logica non è che accetta facilmente tutto questo perché per la parte logica 2 più 2 fa sempre 4, solo 4 la parte logica, non è che piace dipendere da qualcun altro. E allora la parte emotiva in modo compulsivo cercherà di tenere a bada la sfera logico-razionale. Insomma si scatena una guerra interiore. E uno delle armi che ha la parte emotiva per, per così dire, tenere impegnata la sfera logica, cioè l'igiene è un altro problema, è quello del cibo. Tende a far ingrassare. Così tu non sei più preoccupato del fatto che sei dipendente da qualcuno o da qualcuna, ma sei preoccupato del fatto che sei gonfiato come una zampogna o gonfiato come una zampogna. E allora tutte le tue energie saranno focalizzate a cercare di risolvere questo nuovo problema, quello della dipendenza dal cibo, tra virgolette. Cioè ti crea una nuova dipendenza fondamentalmente. E quindi normalmente tutte le persone che hanno una dipendenza affettiva spesso hanno anche dipendenza da cibo. Quindi quando tu acquisirai la tua indipendenza da un punto di vista affettivo, vedrai che rapidamente acquisirai anche una indipendenza da un punto di vista del cibo e riprenderai a dimagrire, poi facendo magari un po' di esercizio fisico per mantenere la tonicità, oltre ad aver raggiunto il peso forma, starai anche bene, meglio fisicamente, insomma. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Ciao a tutti!